...porre anche con Mijailovic che tra 5 minuti ci lascerà e intanto Federica Zuccaro. Sì, una domanda per il mister. Da qualche parte ho letto una sua dichiarazione. Da bambino ho imparato che la palla non va driblata ma va calciata. Questa è una cosa in cui lei crede ancora oggi o da allenatore la visione è cambiata? No, io sinceramente non mi ricordo che ho detto. Ah bene, questa è la bellissima cosa. No, no, non è che... L'ho letto nel suo sito? No, no, no. No? Niente? Ma magari perché io non ero bravo a driblare, ero bravo a calciare. Ah, forse per questo. Io facevo correre il pallone, non correvo io, facevo correre il pallone che forse è anche meglio. Però non mi ricordo sinceramente queste cose qua. Ok, allora, dopo questa figuraccia che ho fatto, mi salvo e faccio un'altra domanda. Lei aveva un sinistro infallibile, questo non lo possiamo negare, no? Ho qualche volta sbagliato, però poco. Vabbè, ce l'ha con me. Nel suo ruolo, in quello che era la sua zona, giocano Capuano, Giama? Lei gli dà dei consigli oppure no? Perché comunque loro qualche volta... Loro sinceramente non giocano nel mio ruolo. Poi bisogna vedere quando, perché io ho cominciato a giocare a esterno di centrocampo. Poi dopo sono andato a terzino-sinistro, poi ultimi dieci anni ho fatto difesore centrale. Io sto parlando del ruolo di terzino-sinistro, quindi quello che ha caputo. Ma terzino-sinistro io ho giocato poco, ho giocato... Poco, nel finale di carriera, credo. No, no, no. Terzino-sinistro io ho giocato sei mesi a Roma e primo anno nella Sampdoria. E basta. E giocavo là, ma non mi piaceva, perché non era il mio ruolo. Non mi piaceva difendere, io volevo sempre attaccare. E poi comunque a fine ho capito che mi è servita anche questa cosa qua, perché dopo, facendo... Non ero sicuramente come difessore, non ero un difessore come può essere Nesta o... Però avevo caratteristiche che comunque da dietro, giocando a difessore centrale, ho imparato difendere abbastanza, però dopo praticamente facevo il regista difensivo che cominciava a partire per azione come si deve, perché è importante anche per una squadra avere da dietro i giocatori che sanno cominciare bene azione, perché se no come parte azione... Certo. E' giusto. Però i consigli, sai, nel vent'anni di calcio ho visto i crude e cotte, ho visto e cerco sempre della mia esperienza personale, da quello che ho vissuto, quello che ho provato, quello che ho visto, cerco sempre di dar consigli e penso che anche un giocatore che magari anche non ti conosce, però sa quella storia che hai dietro di te e sa quello che hai passato, se è quello che hai vinto, se tu gli dici certe cose, c'hai più credibilità di uno magari che non ha fatto calcio a questi livelli, anche se il lavoro di allenatore è totalmente diverso da quello del calciatore, ma comunque come inizio parti già avvantaggiato, poi dopo devi mettere anche nel tuo, nel lavoro di allenatore.